Primo video del nuovo anno, nuovo studio in allestimento, upgrade tecnico per parlarvi di sempre la solita solfa, la scienza che riposi in pace, quella disciplina fatta più di domande che di certezze, disciplina incorruttibile che non dovrebbe farsi corrompere nemmeno dalla politica, quella disciplina che non c'è più, di fronte alle evidenze possiamo porci delle domande, no ma fate bene a non domandarvi niente, dormite dormite, come noi complottisti che pensiamo che la scienza vera venga costantemente soffocata da una scienza che presta il fianco al potere politico, quando mai? Pensare a una cosa del genere è da pazzi, non è mai esistita nella storia una cosa del genere, in realtà sì, azzo se è successo più di una volta, ed è proprio per questo che io oggi vi parlerò di due storie lontanissime nel tempo e nello spazio, dimostrazione del fatto che periodi storici, contesti storici, personalità assolutamente dislocate nel tempo tra di loro poi si siano ritrovate a dover subire le stesse identiche situazioni che subiamo noi oggi, dimostrare come una scienza che presta il fianco alla politica diventando pseudoscienza, dimenticandosi qual è l'obiettivo fondamentale della ricerca scientifica, non solo è esistita, ma esiste, così come è esistita ed esiste una pseudoscienza che si arroga il diritto di essere l'unica scienza e relega la scienza tradizionale a ciarlataneria. Comincerò con la storia di Ipazia. Ipazia è una delle figure più influenti della cultura alessandrina tra IV secolo e V secolo d.C. Figlia del matematico Teone di Alessandria il suo nome significa alta, eccellente, suprema e lo fu davvero. Fu un eccellente filosofa, matematica ed astronoma. Tutto da superare in erudizione persino il suo maestro, che fu suo padre, divenne molto più eccellente di lui in quasi tutte le discipline. Sulla sua grandezza non c'è dubbio alcuno. Tutte le fonti classiche sono infatti concordi nell'attestare la sua grandezza intellettiva. Aveva tutte le carte in regola, se non qualcosina di più, per succedere nell'insegnamento alla figura del padre all'interno della comunità alessandrina. Mancano in realtà attestazioni scritte di suo pugno, cosa che rende un pochino difficile capire quanti progressi effettivamente siano stati attuati dai Pazia. Questa stenza di fonti biografiche è compensata da tantissimi altri autori, tutti concordi. Era un genio. Si dice infatti che fu grazie a lei e fino alla sua morte che la scuola di Alessandria fu un territorio di assoluta libertà ideologica. Una libertà di pensiero che a detta degli autori antichi è proprio l'elemento fondamentale per far fiorire la cultura. Eh, viaia di qua va, vedi che te dicono. Fu grazie al contributo di Pazia che si ebbero degli enormi progressi nello studio dell'astrolabio, strumento che serve a calcolare la posizione del sole e delle stelle. Sempre a lei che si deve quella particolare attitudine mentale che è propria del ricercatore, quello vero, di oggi, cioè il non considerarsi mai arrivati. Alla sua epoca infatti gli studi di Tolomeo erano considerati il non plus ultra dell'astronomia, per lei, invece, erano soltanto uno degli spunti scientifici. Bisognava continuare a cercare e andare avanti. Come i virologi da salotto che abbiamo noi adesso, stessa attitudine. Precisi proprio. Sempre grazie a di Pazia si costruì l'idroscopio, uno strumento per misurare il peso dei liquidi. Insomma, mica un bassetti qualunque. Anche nel campo della filosofia aveva superato tutti i filosofi del suo tempo. Ma allora, cosa accadde? Accadde l'avvento del cristianesimo e si sa come vanno queste cose. Quando la scienza infatti incontra il fanatismo e l'idolatria, la scienza muore. Da 391 e 392 d.C. ad Alessandria si cominciò progressivamente ad abolire qualunque forma di paganesimo. Distruzione di templi, di edifici storici, i fori dedicati a Cesare riutilizzati come grandi cattedrali cristiane, ma soprattutto i sacrifici proibiti come reato di lesa maestà. L'intero mondo pagano doveva sparire, compresa l'astronomia, la filosofia, la matematica, la figura di Pazia stessa, dovevano essere, come dire, spazzati via. Ogni epoca storica c'è il suo Gasparri. Nel 412, con l'avvento di Cirillo, la situazione si inasprì ulteriormente. Ci sta pure il Draghi dalla situazione, capito? L'episcopato cominciò a prendere tanto potere da comportarsi proprio come un principato, a tutti gli effetti. Oreste, il prefetto d'Alessandria, cercava in tutti i modi, poveraccio, di opporsi a questo strapotere. Insomma, c'è un estremo clima di tensione. Oreste e Cirillo si contrappongono con le rispettive fazioni. Chi ci va di mezzo? I Pazia. Fu diffamata, ingiuriata, accusata di calugna, accusata di stregoneria, che vendesse la sua approvazione popolare in cambio di sesso. Quella che professava non fosse scienza, ma c'ha la daneria, che tutte le sue invenzioni valessero niente, che esercitasse seduzione tramite arti magiche anche nei confronti di Oreste. Questo perché, secondo voi? Perché oltre ad essere una delle punte di diamante della società e della comunità alessandrina in senso scientifico, lo era diventata anche dal punto di vista politico, tanto che persino Oreste parlasse con lei, interloquisse con lei per avere dei consigli. Si sfruttarono i rapporti tra Oreste e I Pazia per dire che Oreste era stato chiaramente soggiogato dalla sua arte magica e che lei fosse sostanzialmente tutto il male che si potesse dire di una donna, il demonio in persona. Quindi, accusata anche di essere la causa per cui prefetto ed episcopo non si potessero vedere tra de' loro, nel 415, nel marzo, si pensò alla sua morte. Dicono le fonti che, testuale, un gruppo di cristiani dall'animo surriscaldato la colse di sorpresa mentre stava tornando a casa. La trascinarono verso la chiesa, le strapparono i vestiti e poi la uccisero, facendola a pezzi. E in preda a quest'isteria collettiva per far sì che non rimanesse nemmeno la polvere di lei, presero ogni singolo pezzo e diedero fuoco. Grazia diventa così per sempre un simbolo. Il simbolo della scienza che muore sotto le mani del fanatismo estremo. Il simbolo della vera scienza che viene calugnata, derisa, distrutta. Simbolo dell'estremo scontro tra erudizione e fanatismo. La pseudoscienza che si erge a religione e batte la scienza vera, la ricerca. Vabbè, Pobble, ma tu ci stai parlando di culture del IV-V secolo d.C.? In tempi moderni certe realtà non esistono. Hmm, tu dici? Unione Sovietica Prima nel 1921, poi nel 1932 e 1933. In queste due grandissime ondate di carestia agricola perdono la vita circa 8 milioni di persone. Figurati se in un clima di tensione del genere, di gravi difficoltà economiche, di paura, non esce fuori il tizio che dice che c'ha la soluzione. Il tizio in questione per l'Unione Sovietica è Lisenko. Uno non avrà sentito parlare, altri no, perché Lisenko è uno dei risultati più grandi di manipolazione storica mai avvenuti. Il tipo di manipolazione che tende ad oscurare tutte le grandi cazzate che sono state commesse nel nome della pseudoscienza che serve alla politica. Insomma, nella disperazione generale Lisenko poteva triplicare, ma che dico quadruplicare i raccolti. Bravo, bravo, tutti bravo. E come fa? C'ha il metodo lui. Prendiamo il semino della pianta, lo mettiamo sotto 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 a tutto nel terreno in condizioni di temperatura proibitive. Quello dopo un po' orse me si abitua, diventa forte, resiste al freddo e avremmo raccolti a mai finire. Bravo, bravo. Insomma, la teoria non è che convincesse molto, anche perché era una tecnica che era già stata sperimentata nell'ottocento ed era stata completamente fallimentare. Però quelli stavano disperati. Nonostante fosse evidente che le teorie di Lisenko facessero acqua da tutte le parti, Lisenko insisteva. La sua teoria era genetica allo stato puro. Diceva che se tu infatti prendi una pianta e gli strappi le foglie, quella si abitua ad avere le foglie strappate e rinascerà senza foglie. Burioni, sei tu? Quindi con lo stesso principio il grano diventava resistente al gelo. Eh eh. Il concetto poi era fortemente appetibile anche dal punto di vista politico. Quest'aline significava che con lo stesso principio, se si educavano generazioni al comunismo, sarebbero nati figli già geneticamente comunisti. Una società perfetta, dove ovviamente non ci sta il dissenso, perché se sono tutti comunisti. Io lo so che qualcuno dell'asta ride, ma non ci sta niente da ride. Vorrei ricordare che fino a qualche giorno fa dicevano che se inoculavamo le donne incinta di otto mesi si sarebbe immunizzato pure il fedo. Cioè non è poi troppo diverso da Lisenko, eh? Lisenko perché è proprio bravo diventa capo dell'agricoltura del paese. Mentre gli altri scienziati poracci ci provavano ad alzare il didino e dire ragazzi non pensiamo di aver risolto qualcosa. Continuiamo a cercare, troviamo altre alternative. Invitavano sostanzialmente quindi al rigore, al continuo della sperimentazione, alla tutela. Andava avanti come un treno tranquillo del supporto politico di Stalin per arrivare a nuovo declino economico. Altri morti con la pala. Secondo voi, alla luce di questo colossale fallimento, che cosa fecero? Ritirarono tutto? Mannaggia, oh come siete ingenui. Raddoppiarono le misure. Sembrano italiani. Nel 1948 l'Accademia delle Scienze Agricole dell'Unione Sovietica nominò il Lisenkoismo come l'unica disciplina corretta. A faccia del cazzo. E chiunque provasse ad opporsi venne etichettato come fascista. Scienza vera screditata come pseudoscienza. Pseudoscienza vera osannata come unica scienza possibile. Vennero arrestati, licenziati, messi a morte più di 3.000 biologi. E chi sopravviveva ovviamente aveva la reputazione disintegrata. Il metodo di Lisenko fu così fallimentare, così deludente, ma così profondamente politicizzato, che sbarcò fino in Cina, risultati catastrofici. Dopo la seconda guerra mondiale il potere e le pseudoscienze hanno continuato ad andare tranquillamente a braccetto in Unione Sovietica. L'Università di Leningrado si cominciò a studiare persino la telecinesi. Perché si diceva che con la telecinesi si potevano sabotare i sistemi elettrici dei missili balistici intercontinentali. Pensate che l'America che aveva sempre perculato l'Unione Sovietica per la sua tecnologia, ma che poi aveva ricevuto quella brutta scanizza dello Sputnik, cominciò a dire ma non è che questi hanno scoperto qualcosa che noi non sappiamo? Allora cominciamo a studiarla pure noi la telecinesi. E via! Progettazioni di soldati che diventassero invisibili con uno schiocco di dita, che passassero attraverso i muri, che piegassero cucchiai con la forza del pensiero. Cucu! Noi oggi sappiamo che i russi americani per decenni si sono contesi il primato all'interno della scienza della pazzia, addirittura attribuendo a decisioni del paranormale se attaccare termonuclearmente qualcuno o no. Lo decideva il medium. In una situazione tragicomica di cui noi oggi ridiamo, ma ci avevamo veramente ben poco da rite perché stiamo più o meno ai stessi livelli, eh? E quindi o voi fuori dal mondo che pensate che la scienza non farebbe mai niente di male? La scienza non presterebbe mai il fianco agli interessi politici? Beh, conviene che vi andate a leggere qualcosina di quello che vi ho raccontato finora. Ah, ho omesso volontariamente la scienza del periodo nazista in questo video perché non ve volevo umilia troppo. Mi sembrava un'umiliazione abbastanza forte, anche senza dover ricorrere alla retorica dei morti. Quella retorica che non ve fate scrupolo invece di utilizzare e calare come carta subito appena non sapete più che cosa dire. Vedi, alla fine potreste imparare pure questo. Statemi bene.